La riflessione è, è giusto che quei lavoratori vadano lì, sfruttati in quel modo, è evidente che se tu puoi pagare qualcuno sempre meno, non hai un'etica, continuerai a preferire quel lavoratore senza una tutela a un tuo residente, magari proprio dello stesso paese, che però ha una carta d'identità, che però ha dei diritti e li sa esercitare. È giusto che ti trovi di fronte a delle palazzine nuove, le guardie, ai sacche di povertà che esistono e che sono lì preesistenti, è la tua gente, la tua famiglia e tu non possa dare una risposta, anzi, dando quelle case solo agli altri, perché gli altri sono, sono visti così. E guardi che non è più un accondizionamento di destra-sinistra o di sensibilità, quando la povertà ti prende, quando le regole non esistono più, allora è una guerra tra poveri che ha perso la dimensione anche del controllo.